Prolungare l'autostrada a 27 da Belluno fino in Baviera. Detta così non c'è niente di nuovo. L'arteria stradale nacque quasi 50 anni fa con l'idea che avrebbe unito con il tempo Venezia a Monaco. Da mesi però ci si sta lavorando in Comunità Europea con un progetto del gruppo Conservatori e Riformisti che all'autostrada unisce una valenza nuova, comprendendo una rivoluzione complessiva in chiave digitale che si avrebbe realizzando un corridoio tecnologico. Questo corridoio tecnologico toglierebbe tutte quelle infrastrutture tipo quell'elettrodotto maledetto che parte dall'Austria e arriva a Venezia, che nel Bellunese lascia giù solo veleno, campi elettromagnetici e invece sotto questo grande corridoio potrebbero correre la banda larga, extra larga, il gas, l'energia e tutti dovrebbero lasciare giù delle royalty per i territori e sopra dei pedaggi per i territori. Esempi virtuosi ce ne sono e nemmeno troppo distanti. L'A22, che non è un corridoio tecnologico, ma è una strada brutta fatta 50 anni fa, ma lascia 340 milioni all'anno come una grande fondazione permanente per quei territori. Pensate cosa diventerebbe Cortina e il Bellunese. Per quanto ritardo dunque sui tempi auspicati all'inizio, Cernagiotto incontrerà nei prossimi giorni il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e gli esporerà la proposta di un referendum consultivo. Lo volete il corridoio tecnologico o no? Per sfidarli. Perché poi, se dicono no, basta scuse, basta spopolamento come fatto negativo che il Comelico perde 5.000 abitanti su 10.000 in 10 anni. Basta lamentere, volete stare lì così? Rimanete lì. Ma la vera sfida che deve fare il Presidente Zaia, e sono sicuro che ne avrà il coraggio e la forza, è quella di dire il primo grande corridoio tecnologico d'Europa. Sotto quella strada un uomo cammina in piedi per centinaia di chilometri a riparare i fili dell'energia, la banda larga, il gas. Non ci sarà più bisogno di rompere e aggiustare, rompere e aggiustare. Ma lì sotto, il corridoio è più importante sotto che sopra. È il primo corridoio europeo tecnologico. Ed è nell'area più importante d'Europa, la Baviera e il Veneto.